E' arrivata l'alta marea ieri, pensate, nella spiaggia di Weston Supermarole. Ci troviamo in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Tanti social che hanno letteralmente notato la scena, hanno fatto dei video, sono stati momenti concitanti, i bagnanti hanno cercato di salvare il loro automobile, inviuttiti da una marea in aumento improvviso nella spiaggia di Weston, ripeto, in Inghilterra. Una donna che aveva l'appartamento che si affaggiava in Spagna, in Spagna, ha fatto sapere di aver notato l'arrivo della marea intorno alle 8.20 di sera. E ovviamente il momento è stato piuttosto catartico, azzardo a dire piuttosto spiacevole, tanto che l'alta marea ha, tra virgolette, creato un po' di danni. Si tratta di un fenomeno che in Inghilterra capita spesso e volentieri, infatti qui sul web è riportato che il fenomeno non manca di presentarsi, però in genere si verifica addirittura quando ovviamente fa molto freddo, per esempio l'inverno, quindi complici anche le grandi piogge che ci sono in più di invernale. In questo caso è sempre l'estate e addirittura l'altra marea ha provocato automobili che sono andate nel mare di Weston, in Inghilterra. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Il video termina qua. Iscrivetevi e commentate. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.